Paolo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. Il club ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico portoghese che ha firmato un contratto di due stagioni più un'opzione per la terza. Il suo arrivo è stato salutato dal presidente James Pallotta. Fonseca, addetto, è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiose e offensiva. Il portoghese sarà l'ottavo allenatore della gestione americana della Roma e avrà il compito di ridare entusiasmo ad un ambiente depresso dopo l'ultima deludente stagione segnata dalla mancata qualificazione alla Champions League. Fonseca è riduce da tre stagioni sulla panchina dello Shakhtar che ha guidato alla conquista di tre campionati ucraini e altre tante coppe nazionali. Se la Roma ha trovato il suo allenatore non dovrebbe mancare molto neanche per l'annuncio del nuovo tecnico della Juventus. Tutti gli indizi portano a Maurizio Sarri, il cui ingaggio dovrebbe diventare ufficiale dopo che l'ex allenatore del Napoli si sarà liberato dal Chelsea. Pochi giorni e dovrebbe essere reso noto, ma anche il nuovo allenatore del Milan, Marco Giampaolo, è il grande favorito nella corsa alla successione di Gennaro Gattuso.